ma ciao e bentornati in un nuovo video! sono tornata da qualche giorno da budapest e oggi iniziano una serie di video legati al mio shopping a budapest ragazze, mettetevi comode, preparatevi una bella bevanda calda, distendetevi sul divano mettete questo video in tv se avete la smart tv e iniziamo subito con il mio shopping al DM ricordate nel video che lo abbiamo svalicciato? ebbene sì, ora vi mostrerò cosa io e Jody abbiamo preso poi per i maschietti che vedranno questo video, se hanno interesse per i prodotti per la cura della barba farà un video a parte per quanto riguarda Siri e sarà lui a mostrarvi i prodotti ho un'ottima novità per le amiche che vivono a Milano e a Venezia ragazze, il DM ha aperto Milano degli store e anche a Venezia quindi quello che vi sto mostrando potete trovarlo anche voi allora parto subito da questo prodotto pucciosissimo che è una crema mani mousse quando l'ho vista ho detto no, devo assolutamente averla ed è al profumo di torta e vaniglia quindi vado a shakerare sperando che non succeda un disastro ed ecco qui che meraviglia ragazze già si è assorbita è stupenda adesso vado a metterla subito in borsa e la porto con me perché ce n'è sempre di bisogno quindi la prima cosa che ha colpito la mia attenzione quindi scrisciottate perché secondo me è una cosa graziosa da avere in borsa oppure come idea regalo da regalare alle vostre amiche come pensierino di Natale poi vi faccio vedere Jody cosa ha preso ha preso lo shampoo che fa un profumo fantastico che questo qui è shampoo e balsamo delle principesse come lo chiama lei ragazze profuma proprio di pesca la pesca profuma realmente di pesca l'abbiamo già provato e funziona alla grande e in abbinamento allo shampoo abbiamo preso questo bagno schiuma a tema invernale con arancia e cannella niente ragazze non so descrivervi il profumo di questo prodotto poi questa è una genialata che dovrebbero avere tutti che vi mostro quindi scrisciottate e trovatela voi amiche di Milano e di Venezia che avete il DM ragazze guardate qui da un lato trovate il balsamo girate e da questa parte di un altro colore trovate lo shampoo ora ditemi voi se questa non è una genialata pazzesca per chi va in palestra per chi viaggia chi si sposta cioè un solo prodotto shampoo e balsamo niente non potevo non prenderlo infatti l'ho preso scrisciottate viva un bagno schiuma perché quello dell'hotel non era di mio granimento e ho preso questo niente ragazze è proprio mango sulla pelle completamente organico e io ci credo perché sembra di spalmarsi un frullato di mango niente il profumo è pazzesco solo che ne ho potuto prendere solo lui perché poi vi farò vedere quante cose ho preso in altri store che poi vi mostrerò quindi se lo trovate screenshotate e provate i prodotti di questo brand che dovrebbe arrivare da Londra questo ragazze come sapete è il mio dentifricio da viaggio preferito e ho voluto provare questo è il solito quindi già conosco il gusto so che mi piace tantissimo e ho voluto provare invece questo qui che dovrebbe essere sia dentifricio che colluttorio e quindi dovrebbe avere un forte profumo di menta e a me piace quando mi lavo i denti sentire la mente in maniera molto strong queste sono delle sandiette per le manine al profumo di lamponi che ha voluto prendere Jodie per l'asilo altra cosa che ha preso baby cute no è un amore guardate che carino lo spazzonino è il dentifricio dei pony dei little pony che lei segue tra l'altro in tv l'ha vista e ha detto mamma mamma lo voglio lo voglio lo voglio e quindi siccome è un incentivo in più per incoraggiarla a spazzolarsi i denti con felicità questi acquisti si trasformano in soldi abbiamo preso guardate che carini questa mucchina per le mani io ho preso il flamingo le ha voluto questa delle sirene che diciamo si armonizza molto bene come colori al suo zaino e quindi abbiamo preso questo poi questo profumino da borsa ragazze sa di un pulito fantastico scrisciottate anche questo perché ha una buona profumazione e ha una buona persistenza sa di pulito sa di pesca ma anche credo ha qualcosa di floreale ed è veramente molto molto buono questo nello specifico credo che io lo utilizzerò più in primavera o nelle calde giornate in cui penserò alla primavera e all'estate utilizzerò questo profumino altra mucchina per le mani sempre per per jodi ho voluto prendere questo deodorante roll on ai cariben lovo dovrebbe essere ai frutti tropicali ancora non l'ho provato poi se vi piace ve lo mostrerò nei preferiti del periodo del mese altra crema mani altra crema mani della balea io niente con le creme mani d'inverno ne compro tantissime questa di qua è ai lamponi e non potevo non prenderla dovrebbe essere vediamo qualche furbetta l'avevo un po' aperta ho sbagliato io a non controllare comunque vediamo non sento molto profumazione ha una consistenza più ricca rispetto alla mousse quindi questa la devo provare per farvi sapere se è di mio gradimento oppure no però comunque ho preso crema mani e poi adesso ragazze preparatevi ho trovato bourgeois e ho preso lui ho preso la colorazione light vanilla la numero 51 e ho abbinato il suo correttore sempre dello stesso colore numero 51 ma qua si chiama semplicemente light il correttore l'ho provato una volta sola perché l'ho provato oggi e quindi non so dirvi ho terminato quello che avevo quindi oggi l'ho messo quindi però ancora non so dirvi mentre il fondotinta non l'ho ancora provato perché come vi anticipavo nella puntata del nostro arrivo a Budapest avevo fatto danni in aeroporto e ho comprato un fondotinta che mi piace tantissimo quindi per adesso sto utilizzando quello poi ho sempre di bourgeois ho preso questo rossetto che era pubblicizzato adesso non ricordo c'era una modella che pubblicizzava questa la nuova collezione di bourgeois e un prodotto della nuova collezione era questo rossetto color cannella che è il rossetto che indosso nei video e mi piace tantissimo perché ha questa forma particolare guardate e si riesce a fare bene la forma delle labbra è un rossetto color cannella stupendo dura tantissimo l'avete visto anche voi nel video e poche volte l'ho ritoccato perché è proprio un ottimo prodotto quindi rouge velvet scrischottate questo nello specifico non so se si trova in Italia comunque è il numero 21 ed è questo bellissimo color cannella apre di bourgeois questa è un'edizione natalizia ho trovato questo ombretto liquido anche se ci sono diversi colori ma a me ha tratto l'attenzione questo rosa gold stupendo poi sempre di bourgeois ho comprato un sacco di cose proprio perché io non ho uno store quindi avrei dovuto comprare tutto online e in occasione di averli visti dal vivo ho detto prendo un po' di prodotti quelli che mi piacciono di più e poi vediamo di fare degli acquisti online allora ho preso sempre di bourgeois questo bellissimo rossetto il numero 06 che è un rossetto liquido ed è un colore stupendo guardate che bello niente male come rossetto natalizio da giorno rossetto liquido dal finish brillante ed è il numero 6 e framboise rouge edition velvet il numero 01 vi faccio vedere il colore e questo è un altro bellissimo rosso ciliegia un ottimo rossetto liquido natalizio da sfuggiare la mattina perché non è un rosso prorompente è un rosso piacevole da gioia poi avevo visto in una rivista questo brand che è Trend Up e ho voluto prendere questo smalto rosso che devo ancora utilizzare lo specifico è il numero 180 deve essere veramente un rosso fantastico poi per quanto riguarda durata e applicazione ve lo farò sapere per finire ragazze ho preso due prodotti di Physician Formula era una vita che desideravo averli e non riuscivo ad averli e quando ho visto lo stand semi vuoto ragazza l'ho visto semi vuoto però le cose che desideravo c'erano e quindi mi sono spuntati gli occhi a cuoricino non potevo crederci ho trovato il Butter Bronzer ne parlo ne ho visto tante recensioni bellissime quindi anche io potrò farvi la recensione di questo e poi per finire mi ha incuriosito questa qui che la guardavo da un bel po' è la CC Powder con SPF 30 questa è una cipria correttiva non l'ho ancora aperta perché sto utilizzando un'altra cipria però all'interno ha il giallo il viola il verde e diciamo dovrebbero infatti qua sono spiegate il giallo contrasta le zone blu del viso il verde e i rossori e il viola serve ad illuminare da non farsi scappare la proverò e vi farò sapere in un altro video la mia piccola ma capiente bag di DM è vuota fatemi sapere in un commento se siete tra le fortunate di Milano e Venezia che hanno uno store DM e diteci se le cose che ho acquistato a Budapest sono presenti anche nel DM di Milano o di Venezia e invece voi amiche fatemi sapere in un commento qual è il prodotto che vi ho mostrato in questo video che ha attirato la vostra attenzione e che vorreste provare o vorrei dare all'opera recensito magari in un altro video quindi fatemi sapere mi raccomando se ti è piaciuto questo video pollicino in su e se non sei iscritto al mio canale iscriviti e aiutami a crescere ciao ci vediamo in prossimo video ciao